alle parallele, il regista Dario Barone sa che è privilegiata la pedana del corpo libero femminile andiamo a vedere proprio Francesca Benolli interrompiamo l'esercizio di Coppolino perché vediamo le condizioni di Francesca a questo attrezzo certo, questo è l'attrezzo che più impegna il ginocchio della Benolli bene, questo avvitamento avanti la corpo teso e poi subito un salto raccolto bene, il doppio carpio di Francesca è tornato a spingere con grande sicurezza doppio evitamento, un'uscita ha scelto un motivo intenso come... grazie a tutti